Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it che riparti con noi, che riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti, oggi siamo con il dottor Michele Grandi, futuro candidato sindaco dell'Italia del Rispetto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque lei ci ha contattati perché torniamo a parlare del cimitero degli animali. Addirittura nel 2014, quindi ormai tre anni fa, l'Italia del Rispetto si era occupata di organizzare una petizione firmata da più di 100 vogheresi affinché l'amministrazione barbieri si occupasse, o meglio l'amministrazione comunale si occupasse di costruire appunto questo luogo per far riposare gli animali. Ecco, dopo tutto questo tempo ancora il primo mattone non è stato posato. So che i cittadini firmatari di quella petizione si sono fatti sentire. Ecco, che cosa le hanno chiesto e che cosa voi oggi volete chiedere all'amministrazione barbieri? Sì, giustamente come è stato detto, il cimitero degli animali è stato un progetto su cui l'Italia del Rispetto ha raccolto tantissime firme, su cui c'è stato l'impegno di barbieri a realizzarlo entro il 31 dicembre del 2015, però tuttora non si è ancora visto niente e molti cittadini ci hanno contattato e ci hanno detto l'amministrazione cosa fa? E noi lo chiediamo all'amministrazione, lo chiediamo al sindaco barbieri perché, ripeto, c'è stato un suo impegno a realizzarlo entro il 31 dicembre del 2015. Poi, vabbè, per le note vicene c'è stato il commissariamento, adesso barbieri è stato riconfermato nel suo incarico, ha davanti un periodo in cui può fare dei progetti, può disporre un bilancio e quindi noi siamo qui a chiedere al sindaco barbieri di mantenere le promesse fatte. Chi critica questa proposta fa notare il fatto che il cimitero degli animali non debba essere considerato una priorità, soprattutto in un momento in cui magari le risorse non sono così elevate. Lei cosa risponde a questi critici? Io rispondo che comunque è un progetto sentito dalla popolazione, è un progetto su cui io penso che non si può non essere d'accordo su questo. Magari c'è chi può essere indifferente, c'è chi magari non ha questa sensibilità, però per rispetto anche di quelle persone che hanno questa sensibilità nei confronti degli animali, penso che sia un progetto che debba essere realizzato, non è un progetto stratosferico, quindi io penso che non richieda risorse o impegni particolari, quindi secondo me è un progetto che deve essere realizzato. Siete sulla stessa lunghezza d'onda delle associazioni animaliste oppure le associazioni che si occupano di animali non hanno abbracciato l'idea? No, no, ecco, le stesse associazioni animaliste ci hanno proprio chiesto di portare avanti la cosa, di farci interpreti presso le istituzioni di questo, diciamo, problema, comunque di questo aspetto, di questa tematica e noi lo stiamo facendo come abbiamo fatto per tante altre tematiche che possono apparire più o meno importanti, però insomma fanno parte un po' della sensibilità e del vissuto quotidiano della gente di Voghera.